un lembo di terra vulcanica accarezzata dal vento una piccola isola verde sospesa in un mare blu cobalto ustica o la perla nera come chiamata è un angolo di paradiso del mediterraneo con una superficie di poco più di 8 chilometri quadrati l'isola è una sorta di ampiteatro che guarda al mare mentre il perimetro costiero in alternarsi di suggestive grotte e nature i suoi fondali poi sono una vera e propria meraviglia spettacolari per i colori e per la ricchezza della flora e della fauna marina un patrimonio che la comunità dell'isola ha voluto fortemente salvaguardare e proteggere che nel 1986 ha portato alla creazione prima fra tutte in italia dell'area marina protetta che cosa il paradiso della subacqua il paradiso del turismo lento oggi si parla di slow tourism cos'è il turismo lento è un turismo lontano dai flussi di massa del turismo mordi e fuggi la partenità di ustica proprio perché siamo a distanza di 36 miglia dalla costa siciliana consente di filtrare di scremare un certo tipo di turismo un turismo più sostenibile un turismo che cerca tranquillità che cerca lentezza a ustica si vive la lentezza si ritorna a essere gestori del tempo per chi ho il tempo di poter passeggiare di poter salire verso le colline di andare verso i sentieri facendo hiking facendo dei percorsi mountain bike o anche delle passeggiate lungo la costa senza avere il rischio di essere inseguito dagli orari di alberghi di massa o del di un turismo un po più vacanziero nell'accezione ovviamente negativa lontana dal turismo di massa ustica è la meta ideale per una vacanza fatta di cose semplici a contatto con la gente del luogo e con la natura non solo mare dunque ma anche relax e passeggiate lunghe sentieri per conoscere l'anima di questi luoghi in una dimensione di vacanza sostenibile e più intima che ti fa sentire di appartenere da sempre a quest'isola. Ustica offre tempo, Ustica offre tranquillità, Ustica offre sensazioni a Ustica si vive possiamo dire il turismo esperenziale perché esperenziale perché il viaggiatore il turista quando ritorna a casa dopo un soggiorno a Ustica si riporta nella mente delle sensazioni dei profumi dei gusti e quindi il ricordo non è un magnete made in china ma è una sensazione aver gustato le lenticchie aver mangiato l'ala lunga aver mangiato una fava tipica il macco di fava è tipico di Ustica quindi si riporta delle sensazioni uno sguardo un tramonto quindi questo è succede a Ustica un turismo esperienziale volto nell'esperienza che abbraccia i cinque sensi dell'uomo